Misterioso ferimento a San Pancrazio Salentino. Un colpo d'arma da fuoco manda in coma un 47enne del posto, Angelo Raffaele Taurino, ex operaio metalmeccanico con la passione per i fucili e le pistole. In un primo momento i carabinieri della locale stazione della compagnia di Francavilla Fontana hanno pensato ad un tentativo di suicidio, ma i successivi accertamenti hanno aperto la strada all'ipotesi di una tragica fatalità di un incidente, anche se non si escludono piste diverse. Erano circa le 20 quando all'improvviso nell'abitazione di Via Rossini è partito un colpo da una pistola artigianale costruita dallo stesso Taurino. Il proiettile è entrato dalla gola per poi uscire dal cranio. Prima di perdere i sensi il 47enne è riuscito a chiamare il 118 indicando ai soccorritori l'indirizzo di casa. Un'ambulanza lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi dove è ricoverato in gravissime condizioni. Nel frattempo i carabinieri mettevano a sto quadro l'appartamento per individuare l'arma che, stranamente, era molto lontana dal corpo di Taurino. Amante della caccia e collezionista d'armi, l'ex operaio aveva quindi realizzato con le sue mani la pistola che lo ha ferito. Gli esami della scientifica saranno fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio, anche se al momento non è stato possibile effettuare l'esame STUB. E si scava anche nella vita di Taurino, separato padre di due figli e attualmente senza un'occupazione stabile. L'interrogativo principale riguarda la pistola ritrovata in un angolo nascosto della casa. Gli investigatori, a tal proposito, mantengono il più stretto riservo.